buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz oggi abbiamo appunto un webinar che è legato alla sessione di trading live con i certificati turbo 24 si tratta di un webinar che IG ha sponsorizzato ed ha fortemente voluto in quanto recentemente ha lanciato tutta una serie di nuovi prodotti sulla borsa spectrum e sono appunto questi certificati turbo 24 visto che ho notato che ci sono persone nuove collegate e una serie appunto di magari di persone che non sono schilatissime su questo nuovo prodotto facciamo due parole allora giusto per per spiegare oggi prendo un conto con IG poi decidere di avere il conto CFD e poi decidere di avere il conto oltre il conto barriere il conto turbo 24 che cos'è il tuo conto turbo 24 è un conto che ti consente di andare a negoziare questi prodotti che sono negoziati sulla borsa che si chiama spectrum e di fatto sono dei certificati 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 vuol dire che sono degli strumenti finanziari quotati ok su una borsa e diciamo diciamo funziona esattamente proprio come tutti gli altri certificati appunto delle in commercio ad oggi quindi ci sono tantissimi certificati in particolare questi sono i certificati a leva quali sono le caratteristiche fondamentali beh sicuramente IG li offre a zero commissioni e questo è sicuramente un bel vantaggio il prodotto è quotato liquido e trasparente dopo l'andremo a vedere la piattaforma è quella di IG quindi è un'ottima piattaforma ma soprattutto sono dei prodotti che sono quotati 24 ore al giorno quindi diciamo questo è un po il grande vantaggio sono gli unici e i primi prodotti disponibili H24 tradotto cosa vuol dire vuol dire che il classico certificato a leva su euro dollaro quotato su borsa italiana dopo le 5 e mezza non lo potete più tradare se c'è un qualcosa nella notte la sera Trump tweet eccetera eccetera con questo tipo di strumento potete entrare uscire coprire già le posizioni e tutto il resto ovviamente non si può essendo un certificato perdere più del capitale investito infatti certificati hanno un valore adesso prendiamo la piattaforma lo facciamo vedere con un certificato a caso questo è un certificato X non ci interessa che sia in questo caso audio SD ha un valore in questo caso vedete di 16 centesimi persi questi 16 centesimi il certificato andrà a valere zero quindi gap di mercato vi ricordate euro franco nel 2015 ecco quel gap fortissimo di 20 figure ecco quel tipo di situazione qual certificato non esistono quindi sono prodotti a rischio limitato ovvero non è possibile perdere più del capitale investito piattaforma già la conoscete perché chi viene sul nostro sito la conosce bene tutti i prodotti sono quotati in euro quindi molto molto semplice avremo profitti e perdite ma è come se ogni contratto appunto valesse un tot per punto giusto per darvi qualche input ma poi lo vediamo meglio 100 certificati equivalgono a un lotto per esempio su euro dollaro e 10 certificati equivalgono a un mini lotto quindi insomma qui trovate la liquidità aggregata sui vari strumenti e sui vari prodotti appunto di tutto appunto di tutta la clientela europea andiamo subito a vedere nel frattempo do un'occhiata alle domande se vi sono delle ovviamente se ci fossero delle domande vi esorto a farle perché siamo qui apposta appunto per rispondere i g non ho nulla da insomma paga queste sessioni proprio perché vi sia diciamo della diciamo venga fatta dell'education su questi prodotti quindi assolutamente se ci fossero domande richieste curiosità chiarimenti non esitate a farle allora quali sono i sottostanti indici fx materie prime più interessanti di tutto appunto quindi i sottostanti sono circa una ventina quindi passiamo da il gold brand al appunto ai principali cambi fino appunto a passare ai principali indici borsistici io a questo punto andrei a dare un'occhiata a quello che sta avvenendo sull'indice tedesco sul dax vi segnalo che all'interno della piattaforma voi potete aggiungere il dax allo spazio di lavoro questo fa sì che possiate avere il vostro grafico all'interno della piattaforma in questo modo ecco qui il grafico che utilizziamo è quello della piattaforma ig proprio della piattaforma ig nessuno vi vieta di utilizzare un sistema grafico differente quindi che ne so pro real time che è sempre offerto dalla stessa ig ovviamente sui certificati dovremo utilizzare appunto quello che è offerto dalla piattaforma tenete presente che il valore del sottostante è il medesimo quindi cioè non è che se il dax si muove di 100 punti al rialzo voi siete long otterrete un risultato differente a fare il cfd piuttosto che il certificato se andate a coprire il medesimo importo il medesimo controvalore la performance sarà esattamente identica così come lo saranno gli stop e i stop appunto e i target quindi se voi individuate che sul dax dico cose a caso poi andiamo a fare un'analisi un po più approfondita però dite che la resistenza 13.600 e il supporto 13.400 sapete che ci avete da 13.500 punti 100 punti di stop e 100 punti di target ecco questo giusto per essere chiari bene allora quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare a questo punto dobbiamo fare un'analisi di quello che sta succedendo sul grafico del dax e poi andiamo a capire come funzionano i certificati allora cosa abbiamo visto abbiamo visto un movimento a rialzo sul grafico giornaliero una rottura ribasso e un nuovo massimo ok 13.500 punti quindi questo è stato quello che abbiamo visto sembrava che il mondo dovesse finire qualche giorno fa nella realtà la candela di diciamo di per così dire insomma di debolezza è stata ripresa e ad oggi superata quindi sembra che il trend sia ovviamente di carattere rialzista secondo me comprare su questi livelli non ha molto senso perché l'impulso rialzista è tendenzialmente finito o meglio si è in parte esaurito potremmo vedere un'altra candela verde ma secondo me comprare su questi livelli è un rischio ok è un rischio una cosa differente potrebbe essere attendere un ritracciamento per esempio in area 13.341 per andare nuovamente long quindi su quelli che vengono definiti chiamati swing insomma così per dire quindi allora l'idea qual è in questo momento quindi il trade dobbiamo essere attendisti vogliamo comunque sappiamo che siamo all'interno di un trend rialzista quindi questo non vuol dire che non compro quindi vendo no non compro quindi sto fermo oppure scendo di time frame e vado a fare una valutazione un po più precisa di quello che sta avvenendo la forza negli ultimi giorni non si discute siamo passati da 13.000 punti qui stiamo nel giorno 7 di 8 8 che è ieri quindi ieri siamo passati da un minimo di 12.970 punti facciamo 13.000 a un massimo di 13.500 punti quindi una forza molto molto importante scendiamo ancora i time frame vediamo se nell'orario ci sono dei segnali di debolezza quello che si potrebbe fare secondo me è vedere se mettere magari degli ordini con degli stop molto molto stretti in questo caso si può operare tranquillamente sia in intraday che in perché appunto nell'intraday delle prese di beneficio ci possono essere tranquillamente l'importante appunto è mettere i livelli di stop loss come funzionano quindi diciamo supponiamo di voler impostare un trade di questo tipo ok guardatelo qua questi sono i nostri livelli 13.494 e mezzo un'ora scendiamo sul 5 minuti abbiamo 13.500 punti come livello importante e un massimo 13.500 vediamo 13.523 un trade che potrebbe essere interessante secondo me potrebbe essere quello di di entrare a la cosa corretta secondo me sarebbe entrare sopra i 13.500 punti con stop di 20 punti però visto che dobbiamo operare e siamo qui insomma lo faremo lo stesso anticipando un pochettino il nostro trade cercando di entrare quanto meglio possibile allora i certificati si comprano e si vendono cioè o meglio prima si comprano e poi si vendono questo vale sia per il certificato long sia per il certificato short quindi se io voglio andare short di uno strumento devo comprare un certificato short ok questo è un meccanismo che è un po' diverso da quello dei cfd ma è molto molto importante da tenere sotto controllo quindi ci interessa un certificato short abbiamo detto che ci interessa inoltre il livello di 13.525 come livello di stop qui c'è un kio quindi un stop loss se vogliamo dire a 13.556 quindi non ci serve comprare un certificato che abbia una barriera a un livello più alto quasi sono gli stop loss livello k o traducetelo con stop loss ma non ci serve avere un certificato che abbia lo stop loss a 14.282 stiamo facendo intraday vogliamo tradare intraday tra l'altro la leva offerta di 180 volte quindi non è molto importante ok qui che cosa vediamo vediamo come si va a inserire il nostro ordine abbiamo diverse modalità di inserimento dell'ordine io metterei il numero di certificati 10 ok quindi diciamo questo è un pochettino il nostro trade poi lo andremo lo andremo a capire bene come funziona ok andiamo a a mettere il nostro livello di prezzo 0.74 più è basso ovviamente più diciamo andremo a comprare il nostro ordine guardate la differenza vedete 74 e 7 75 7 un punto no questo è lo spread che abbiamo sul dax no ogni punto di movimento si muove un centesimo ok quindi supponiamo di mettere 0.74 come livello di ingresso guardate il book perché ve lo voglio far vedere metto 100 contratti che vuol dire un euro a punto ok quindi il mio rischio in questo caso sono 74 euro 74 euro com'è che si ricavano si ricavano con il certificato che si annulla ovvero che raggiunge il livello di stop loss di 13.556 in realtà noi non usciremo dal mercato con quella perdita ma usciremo dal mercato prima quindi con una perdita di qualche decina di euro di 25 euro che è il nostro livello di stop loss più o meno ok quindi 100 certificati valgono un euro a punto ok sul dax ovviamente volete fare il dax contratto standard dovrete fare 25 volte tanto ok quindi 2500 contratti ok bene guardate la liquidità tra l'altro è molto vasta quindi ce n'è tanta vi eseguono sempre tenete presente che se volete comprare pesantemente non c'è problema nel senso che il il broker o meglio il market maker che c'è alle spalle rimette le liquidità senza problemi i prezzi nostri in questo momento sono più attrattivi quindi noi andiamo a investire di meno ok andiamo a mettere un valore più basso ok e andiamo a mettere il valore di 0 70 ok ora guardate come il nostro ordine apparirà qua dentro facciamo inserisci ordine eccoli qua questi sono i nostri 100 pezzi questi siamo noi che abbiamo messo il nostro ordine in piattaforma se non dovesse essere eseguito andremo a modificarlo appunto per cercare di sfruttare appunto questa situazione nel frattempo voglio farvi vedere quello che è il kid ok ovvero essendo un prodotto regolamentato qui abbiamo il kid che ci spiega un pochettino il funzionamento di tutti questi prodotti tra l'altro ce l'abbiamo in italiano voglio farvi vedere però i dati il master data il cosiddetto master data perché essendo un prodotto assolutamente regolamentato la cosa bella è che abbiamo tutti i nostri dati disponibili quindi quindi vediamo i latest trade quindi gli ultimi trade che sono stati fatti come vedete appunto dalle 11 e 13 sono passati questi ordini ok e tutte appunto le negoziazioni che sono state fatte ecco una cosa importante che vediamo se ci sono delle domande in merito anzi ve la faccio io una domanda visto che abbiamo cercato di capire cosa è e come funziona questo tipo di prodotto adesso voi mi dite quest'ordine quanto vale ok è un mini lotto quanti euro sono per punto è un contratto grande un contratto piccolo ditemi di più su questo prodotto forza perché se non lo sapete vuol dire che non abbiamo capito niente io ho spiegato male e nessuno ha idea di quello che sta facendo visto che siete in tanti collegati io non vado avanti finché non mi dite il trade del 9 gennaio quello segnato in grigio delle 11 13 minuti e 32 secondi questo trade qua quanto vale perché se no compriamo e vendiamo a caso cioè non va bene non avere la più pallida idea di che cosa si sta comprando e vendendo quindi finché non mi dite oh bravo eliseo eliseo ci dice sono 5 mini lotti o meglio sono 5 euro per punto ok benissimo 5 euro per punto vuol dire il classico contratto mini che trovate nella piattaforma questo trade qua questo prodotto si muove esattamente esattamente come se aveste comprato un contratto mini su sulla piattaforma diciamo standard o se aveste fatto un mini future o quello che volete ok bene quindi vediamo 82 83 mannaggia guardate l'idea era buona ma il mercato c'è scappato in questo momento attendiamo la lasciamo lì e attendiamo a vedere cosa succede va bene ok peccato perché l'idea era carina quella di cercare di andare a prendere dei dei punti purtroppo adesso il dax si è mosso se andate a vedere di una quindicina di punti 20 punti peccato questo questo trade l'abbiamo l'abbiamo perso andiamo a vedere c'è qualcos'altro che volete vedere magari un altro strumento che ne so ecco tra l'altro guardate il trade che abbiamo messo noi va in ordini di apertura lo vedete qui ok quindi ordine di apertura cosa vuol dire vuol dire io vado long del certificato short quindi prendo una posizione ribassista ok se il livello di prezzo del certificato arriva a 0.7 al momento batte 0.88 di conseguenza non faccio questo trade perché giustamente perché appunto questo non faccio questo trade perché il mercato non ha colpito quel livello di prezzo ok bene aspettiamo vediamo se ritorna qua in area a cui più o meno ci eseguono attendiamo ovviamente sono soldi veri qui non esistono le demo sui conti sui conti diciamo turbo quindi ovviamente è vero che io posso provare a forzare un pochettino su dei trade così piccoli però non è che proprio dobbiamo buttare i soldi se non se non arrivano i livelli adeguati quindi non è che dobbiamo trovare per forza adesso potremmo provare alla rottura qua sotto di 3.472 magari andare a comprare su questi livelli vedere se c'è qualche livello che tiene quindi una piccola inversione magari sul minuto ovviamente questo allora non si trova da in questo modo qua però abbiamo una sessione che dura 45 minuti 50 minuti non dobbiamo cercare di inventare di trovare qualche cosa di stimolante quindi poi ovviamente quando vi metterete davanti alla vostra piattaforma il consiglio che vi senti poter dare non è che dovete tradare per forza noi qui abbiamo delle esigenze diciamo di webinar mettetevi la e fate il trade solo ed esclusivamente se l'idea diciamo di investimento vi piace ecco secondo me è un livello potrebbe rompere alla rottura diciamo di 13.470 si potrebbe valutare un ingresso long di brevissimo ok bene allora ci sono domande su oro e su gold allora sull'oro vediamo se c'è tempo scusate sul gold e su euro dollaro vediamo se c'è tempo dopo dopo perché sul loro mannaggia vi ho fatto vedere cento volte la situazione appunto sulla stagionalità ve lo faccio vedere andate sul nostro sito cliccate su grafici stagionali stagionalità dell'oro questo movimento rialzista così forte era ampiamente prevedibile o meglio sono vent'anni che loro nella prima parte dell'anno presenta forza questa forza dura fino alla metà di febbraio quindi mi raccomando dell'oro ne abbiamo parlato diffusamente sulle pagine di investire.biz per settimane quindi vi esorto a guardare gli articoli appunto che sono pubblicati sul sul nostro sito sul sito punto investire.biz invece per tutti coloro i quali mi chiedono di euro dollaro andiamo a fare un'analisi su euro dollaro ok l'analisi su euro dollaro quindi ce l'abbiamo nello spazio di lavoro vediamo cosa sta succedendo su euro dollaro prima di tutto bisogna mettere il grafico giornaliero e fare una valutazione allora cosa sta avvenendo sul dollaro americano non vi è dubbio che nelle ultime settimane negli ultimi giorni di negoziazione vi siano stati acquisti sul dollaro dollaro acquistato come valuta rifugio dollaro acquistato perché secondo me vi è un differenziale positivo per il dollaro americano e quindi anche se in america dovessero scendere comunque più attrattivo comprare i dollari e in generale diciamo il mercato sta andando in quella direzione lì ora il tema il tema è è questo ok il se andate andate a vedere andate a leggere l'articolo che ho fatto sulle obbligazioni che trovate appunto trovate sul nostro sito nella sezione appunto obbligazioni parlo proprio di tutto l'ultimo articolo appunto delle obbligazioni in dollari parlo proprio del tema legato a quella che è una possibile rivalutazione del dollaro quindi diciamo che se dobbiamo fare un ragionamento di lungo termine è giusto che sicco è giusto comprare i dollari ok quindi lo short euro dollaro è sicuramente un trade corretto ora come sempre dobbiamo a trovare un livello interessante per certare quindi 1 e 12 era un buon livello per certare adesso dobbiamo trovare diciamo un altro livello interessante per andare short questa è l'analisi diciamo di medio termine ora però noi abbiamo i nostri turbo e quindi dobbiamo scendere di time frame e vedere se vi sono delle opportunità su quattro ore vedo una sostanziale lateralità se vogliamo dire insomma comunque c'è stata una forza una forza insomma su in quest'area poi c'è stata nuovamente debolezza però non vedo nulla di particolarmente eccitante nelle sul grafico invece orario vediamo che dall'inizio della settimana di fatto c'è stato un acquisto di dollari ora l'idea sarebbe cerchiamo di trovare un livello di vendita interessante al momento qui non vedo nulla scendiamo ancora ecco se vogliamo fare trading intraday un'idea potrebbe essere quella di andare a vendere su questi livelli 11 e 0 7 ok ora 11 e 0 7 nel frattempo rispondo ad eliseo eliseo si può spostare parte liquidità per aprire un conto su turbo 24 allora tu fai così se la cosa migliore da fare è chiamare il broker quindi si chiama ig facciamo vedere i contatti ecco li trovate qui all'interno della della piattaforma trovate appunto i vari contatti sul sito contattate il broker ok e gli dite che avete visto il webinar di investire punto biz sui turbo in modo tale che così il broker io questo lo dico senza vergogna continuerà ad acquistare pubblicità sul nostro sito anche se noi facciamo un col lavoro di qualità insomma nell'interesse del cliente e gli chiedete come fare appunto per spostare liquidità da un conto eg esistente a un conto turbo però ti confermo che è possibile però almeno di che sei venuto a conoscenza per il nostro tramite bene allora stavamo facendo l'analisi su su cinque minuti su euro dollaro ok livello interessante interno a 1 11 e 0 6 più o meno 0 7 per cercare magari di fare un'operazione al ribasso in questo caso abbiamo anche qui certificati long e certificati short ok quindi possiamo decidere di andare ad acquistare un prodotto con leva 47 per quanto riguarda lo short e addirittura con le 141 per quanto riguarda il long ora io qui attendiamo un attimino vediamo vogliamo provare a fare lo short ok qui secondo me si riesce a risparmiare qualcosina se riusciamo a farlo salire un pochettino questo strumento riusciamo a vendere su dei livelli più più ottimali ok quindi questa è un po la mia la mia idea cerchiamo di sfruttare quello potrebbe essere un un'area di resistenza molto in realtà non è fortissima perché stiamo lavorando sul grafico a cinque minuti voi sapete che l'operatività sul grafico a cinque minuti è spesso un'operatività molto molto per come dire insomma un'operatività forzata toccata da quello che viene definito rumore quindi viene tanto sporcata quindi io le analisi tendo a farle sul medio termine però questi sono prodotti che invece sono particolarmente adatti per chi vuole fare diciamo questo tipo di operatività molto molto veloce perché c'è un buon una buona leva e sono prodotti sicuramente molto molto interessanti quindi sono prodotti che possono essere utilizzati per il trading intraday allora siamo quasi arrivati sul nostro livello di short apriamo il prodotto andiamo a vedere 2 e 37 ok noi dobbiamo pagarlo di meno ok quindi noi lo vogliamo pagare 4 pips di meno quindi lo vogliamo pagare 2 e 30 ok più o meno 2 e 30 allora ogni centesimo è circa un pip ok quindi 2 se noi vogliamo comprare intorno a 1 11 e 0 7 dobbiamo pagarlo 1 e 32 io ho messo 1 e 30 va va bene così insomma stiamo aspettando 5 pips per per essere eseguiti insomma mi sembra il minimo quantità 10 contratti e vedete appunto che il nostro livello di stop loss è a 1 13 e 39 quindi niente insomma dobbiamo fare 100 contratti per per appunto avere un trade di un euro appunto importante euro dollaro non si muove di un dollaro appunto come le fax normale ma questo è un prodotto in euro quotato in euro che quindi si muove di un euro appunto quindi un pochettino più grosso di un contratto di euro dollaro ok quindi ogni pips vale un euro e non vale un dollaro in realtà ogni pips o meglio ogni pips guadagnato perso su ogni certificato vale un centesimo di dollaro tanto poi ci sarà la registrazione quindi poi potrete rivedere tutto però pensate così 100 mini di euro dollaro è un mini contratto da un euro appunto giusto per entrare nell'ottica del funzionamento andiamo a inserire l'ordine vediamo se ce lo mette vediamo se esistiamo se compariamo all'interno del trade eccolo qua eccolo qua questi siamo noi il nostro ordine mercato ordini di apertura eccoli qua abbiamo short euro dollaro 100 pezzi dal livello di 230 ok tra 6 pip veniamo eseguiti punto più punto meno ok bene altre altre considerazioni sono queste andiamo a vedere anche in questo caso se esiste il il kid ovviamente esiste e soprattutto quali sono le informazioni su questo prodotto lo apriamo da qua spectrum eccole qua questi sono gli ordini che sono passati vedete un contratto questa è una persona che stava cercando di provare 5 del mattino 6 del mattino 7 del mattino 8 del mattino 10 del mattino vedete sono tutti i vari pezzi scambiati su questa che è la venue tra l'altro qui se andate a vedere ci sono visto che dobbiamo attendere che insomma il nostro ordine venga eseguito ci sono tutti i le notizie le novità che bisogna sapere o meglio tutte le informazioni quindi il moltiplicatore il trade quanto vale euro l'underline e tutto il resto quindi mi raccomando trovate tutto ora proprio perché appunto si tratta di un prodotto listato vediamo se si avvicinano i prezzi al nostro livello se riusciamo a fare un un trade ok vediamo se riusciamo vedete questo è il nostro ordine lo modifico tanto è talmente piccolo che non è un grosso problema andare a modificarlo lo modifico a 33 ok eccolo qua adesso vi faccio vedere come il nostro ordine sia molto più in alto vedete adesso è probabilmente verrà eseguito perché siamo a un pip un pip e mezzo dall'eseguizione diciamo dall'esecuzione di questo ordine ok adesso vi faccio vedere vedete che stiamo salendo siamo insieme qui adesso siamo eccoci qua vedete pian pianino veniamo saliamo quando saremo perché voglio farvelo vedere un eseguito vedete quindi voglio farvi vedere faccio vedere sia l'execution che otterremo sia il fatto che il nostro trade si vedrà all'interno proprio dei dei trade eseguiti all'interno della borsa quindi ci sarà proprio l'effettivo settlement su questo strumento allora questo è il nostro ordine lo vediamo qua non siamo distanti si deve muovere di un pip per essere per essere eseguito tra l'altro vedete lo spread come piccolo siamo al terzo decimale siamo intorno siamo sotto siamo sotto il pip di spread giusto per dare qualche qualche info ok ovviamente purtroppo quando il mercato è fermo è molto difficile insomma farvi vedere l'operatività purtroppo non si è mosso né questo né tantomeno il DAX che è vero che è tornato su ma il nostro ordine ancora ben lungi dall'essere eseguito anzi in realtà era aveva continuato a scendere della tornata appunto su quei livelli di cui stavamo parlando precedentemente ok quindi questo è un po' quello che sta avvenendo torniamo su euro dollaro vediamo se il nostro ordine si avvicina al livello purtroppo cavolo non ci hanno eseguito per un niente livello era corretto questo che avevamo individuato purtroppo non non riusciamo ad essere eseguiti vogliamo provare con un long però ve lo faccio vedere vi faccio vedere una cosa ci chiedono se ci sono commissioni no non vi sono commissioni quello che vedete quello che pagate tra l'altro a tale riguardo voglio farvi vedere una cosa vi faccio vedere su un altro certificato su euro dollaro che quello che ha lo spread minore ovviamente perché è il prodotto più liquido voglio farvi vedere una cosa torniamo alla lista dei certificati andiamo long vi faccio vedere una cosa cioè come cercare di fare dei trade e cercare di arbitraggiare all'interno appunto dei prezzi di G ovviamente questo è impossibile ma però vi posso far vedere come diciamo fare degli eseguiti all'interno appunto della cosa quindi andiamo inserire il livello di prezzo 0.78 ok 100 certificati ok quindi siamo qua e ci avvicineremo sempre di più ok teoricamente noi possiamo metterci anche sopra in mezzo allo spread del broker guardate qua 0.78 siamo qui questi sono i nostri 100 pezzi anzi lo modifichiamo posso eliminarlo lo eliminiamo ok torniamo la mettiamo un valore un valore sporco di quantità quindi tipo 101 così lo riusciamo a seguire meglio nel book e andiamo a mettere 0.80 ok che è il nostro ordine nel frattempo forse ci eseguono dall'altra parte quindi se ci eseguono sul long cioè scusate sullo short non abbiamo bisogno di mettere questo ordine vediamo quanto manca ordini di apertura 2.33 2.34 manca un pip vedete questo è l'ultimo tanto se ci eseguono ce ne accorgiamo lo vediamo qui ok nel frattempo inseriamo il nostro ordine a 0.80 ok sono 101 pezzi sono qua adesso se euro dollaro si muove di 3 pippo ci entra il long ci entra lo short quindi bene o male un trade lo dovremo fare per forza guardate qua ordini di apertura 3 se ci passa uno l'altro ordine siamo dentro ok andiamo a vedere come siamo messi su quell'altro eccolo qua i nostri 100 punti siamo secondi eccoli qua guardate 11.07 c'è euro dollaro purtroppo si sta muovendo in un range di questi qua sembrano tanti ma questi qua sono 10 pips quindi nell'ultima ora purtroppo ci siamo mossi di meno di 10 pips e questo è molto molto difficile farvi vedere qualcosa però guardate siamo primi eccoci qua eccoci qua guardate il nostro ordine è entrato siamo short euro dollaro vedete la piattaforma ci aggiorna in tempo reale i profitti e perdite quindi noi in questo momento abbiamo pagato le commissioni abbiamo pagato tutto possiamo decidere di chiudere il nostro trade ok questo più che altro perché mi interessava farvi vedere appunto questa situazione qui vedete le posizioni in essere che al momento sono 100 ok 100 pezzi quindi 100 certificati il livello di prezzo al quale siamo entrati se non ricordo male è di 2 euro e 33 ok quindi noi possiamo vendere a un prezzo più alto se noi andiamo a vendere a un prezzo più alto di 2 euro e 33 avremmo guadagnato qualcosa ok questo è giusto per quindi andiamo a inserire un prezzo di 2 euro e 34 per guadagnare un punto questo è giusto per farvelo vedere come funziona la quantità che andiamo a inserire può essere al massimo di 100 certificati e quindi avremo il nostro profitto profitto che in questo caso sarà un profitto di 1 euro ovviamente poi tutto quanto viene pesato sulla base di quello che ognuno di noi appunto decide di diciamo di di utilizzare ecco importante cliccare su sell ecco noi eravamo su buy avevamo comprato prima adesso dobbiamo vendere ok vendiamo a 2 e 34 quindi saremo gli ultimi diciamo in linea il sistema ci dice già che abbiamo 100 posizioni quindi possiamo chiudere queste 100 posizioni che il nostro profitto sarà o potrebbe essere di sarà di 1 euro ok bene perché è un ordine al limite quindi alla peggio alla meglio faremo più di 1 euro faremo 1 euro e qualcosa però probabilmente faremo 1 euro bene quindi andiamo a inserire il nostro ordine e vediamo se il nostro ordine verrà eseguito quindi tradotto se euro dollaro arriva a 1 e 34 quindi scusate si muove di 2 pips dai livelli attuali il certificato arriverà a quotare 2 euro e 34 con conseguente profitto sulla posizione chiaro per tutti? domande? curiosità? vediamo se ci sono domande curiosità tutto chiaro? bene non sono prodotti semplici questi ecco una cosa che voglio farvi vedere è sullo short euro dollaro guardate l'aggiornamento della pagina 2 e 33 alle 11 e 39 questo qua è il nostro trade è l'ordine che abbiamo passato noi su questo strumento tra l'altro una cosa carina questo qua è il nostro ordine di chiusura order book depth vuol dire la profondità del book quindi vedere tutte le proposte in acquisto e vendita in questo momento ovviamente questa pagina non si aggiorna in tempo reale se volete l'aggiornamento appunto in push così il consiglio è quello di stare sulla piattaforma Francesca mi dice non hai comprato troppo presto certo certo in realtà abbiamo venduto troppo presto sì Francesca ti rispondo è un trade da un euro a punto quindi una cosa molto molto piccola è fatto per farvi vedere qualcosa perché se no se no appunto non riesco a farvi vedere il trade insomma per così dire quindi questo è è fatto esclusivamente per farvi vedere un eseguito per farvi vedere come poi andate a vedere l'eseguito sulla piattaforma come andate a vederlo all'interno della borsa questo è esattamente il sito della borsa e qui vedete appunto questo trade ovviamente certo il trade è stato anticipato certamente il trade è stato fatto per farvi vedere come viene eseguito un ordine su questo tipo di strumento ovviamente il consiglio è quello di fare quanto più possibile attenzione non siete obbligati a tradare per forza come lo ero io in questo momento insomma che in qualche modo ero tra virgolette obbligato a tradare per forza bene io spero di avervi dato informazioni idee contenuti di avervi fatto vedere come funzionano questi prodotti a questo punto se avete delle domande sono assolutamente a disposizione per 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 darvi risposte alternativamente mi ci vediamo appunto sulle pagine di investire.biz mentre mi fate le vostre domande c'è chi mi dice gold vorrei comprarlo allora secondo me la stagionalità del gold è ancora positiva attendiamo un ritracciamento e andiamo long qualora dovesse esserci un ritracciamento quindi io attenderei un ritracciamento intorno ad a 1520 livelli su diciamo livelli di questo tipo e poi dopo andrei ad acquistare nuovamente questo è il grafico giornaliero del gold lo vedete qua con questa forte ripartenza appunto negli ultimi giorni come si fanno a mettere stop loss e take profit mi chiedete allora ovviamente voi potete inserire gli ordini nella borsa la borsa al momento appunto accetta questo tipo di ordini quindi take profit potete mettere tutti i take profit che volete che è quello che abbiamo fatto noi adesso 2,34 euro è un take profit per lo stop loss appunto c'è il livello di knock out ovviamente nessuno vi pieta di uscire dal mercato a mercato nel momento nel momento in cui dovesse essere raggiunto un livello che non vi aggrada più diciamo che lo stop loss è intrinseco nel prodotto bene euro dollaro è sceso di un pip quindi abbiamo recuperato un euro attendiamo che il nostro ordine venga eseguito nel frattempo io allora rispondo appunto a qualche altra domanda cioè se va lì si perde tutto sì allora questo qua 1,13 e 39 è il livello di knock out a livello di knock out il certificato si azzera quindi si perde l'intero valore investito ok quindi come se fosse un'opzione che va out of the money quindi lì si perde tutto tenete presente che questo valore di knock out il valore originario era 1,13 e 42 ok il livello il valore originario viene pian pianino si aggiorna a causa dei rollover quindi ogni giorno diciamo vi è un addebito un accredito quindi questo può andare dal lato favorevole o dal lato sfavorevole ma è calcolato esattamente quello che avviene sul forex sugli indici discorso uguale c'è ovviamente un fattore di aggiustamento quindi vedete questo qui che era il germany short 13.620 probabilmente fuori da diverso tempo adesso è già arrivato con il livello di ko a 13.556 bene io penso spero di avervi dato dei buoni dei buoni feedback delle buone informazioni con questo vi saluto vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading con i certificati Turbo 24 DIG ciao